ok bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game bentornati in addio ad eponia entriamo allora andiamo nella camera 5 doc ho con me il tuo commutatore al plasma che succede qui rufus l'operazione è stata un successo sono finalmente tornata a essere me stessa si è fantastico ma come si beh questo è doc avevi davvero bisogno del commutatore di pelliccia di mammut pelliccia di pelliccia di che è una storia divertente non ci posso credere liberarti di me cosa si proprio così mi hai affidato un compito demenziale per tenermi lontano è davvero meschino da parte tua sta dicendo la verità doc bozzo ecco pensavamo che io che pensavo che foste suoi amici dai sai come fatto non importa cosa tocchi finisce sempre nel caos e si ho distrutto il mio pescareccio sul serio siamo davvero questi livelli lascia che ti rica una cosa su rufus lui è uscito è cacciato avanti è in fretta raffiggetegli lugola con degli stozzicadenti magari più tardi camera 1 ottimo l'urida banda di traditori io cletus eccoti rufus aspettami mi dispiace doc e bozzo vedo che hai ritrovato la tua fidanzata eccellente la cosa succede qui c'è nessuno in questo dannato no no andiamo scappiamo via ragote giugolare e per lei fermi non si muovete all'inseguimento dobbiamo sbarazzarci di cletus sta lavorando ragote giugolare no ti prego mi stai scambiando per qualcun altro che ci fai qui e torna indietro che dolore quanto vorrei lanciare questa pazza addosso a cletus ok entriamo di qua camera di doc ferma adesso nella camera oscura di nuovo non andare via ti prego non andare via non andare via Gino Paoli un momento adesso nell'armadio camera dell'indovino ma che come osi rubare i miei vestiti la pagherai per questo no fermo io aiuto aspetta torna indietro vigliacco ragote giugolare macchina distributrice di torte dove è finita la tua fidanzata se solo avessi saputo e ora nell'armadio e ora nell'armadio signori Nagal un momento e quindi oh no qualcosa non torna vediamo se mi da un suggerimento che macello 5 porte 2 piani e 5 persone che si inseguono lungo i corridoi per la barba di Bozo come farà Rufus ad approfittare della confusione per far si che donna e cletus si incontri nel corridoio questo caos può essere gestito solo scoprendo secondo quale criterio ogni personaggio sceglie la porta in cui entrerà e sistema che collega le varie uscite fra loro dov'è finita la tua fidanzata? vorrei tanto saperlo anch'io ok vediamo infanto cielo qualche traccia della tua fidanzata? non ancora ferma ragù di giugolare ancora qualche traccia della tua fidanzata? non ancora dai dai ci devo riuscire dobbiamo sbarazzarci di cletus ci sto lavorando smettila non solo cletus qualche traccia della tua fidanzata? non ancora ritento vado camera di doc camera di doc camera del fantasma ok 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 ti ho preso ci deve essere un errore non ti conosco neppure morte all'impastore eccovi finalmente a cosa si deve questo ridicolo nascondino? che sta succedendo qui? eeeh è evidente che quella donna ce l'ha con noi eeeh si pare proprio di si dovresti prenderti più cura dei tuoi prigionieri i miei prigionieri? sei stato tu a trascinarla qui e a proposito dov'è adesso? avrà aperto la porta sbagliata eh eh tanto meglio adesso non c'è più nulla che ostacoli la nostra partenza partenza? per porta fisco naturalmente l'ultima nave per Elysium sta aspettando solo voi due a meno che non preferiate rimanere qui e effettivamente pensandoci bene a Gal possiamo parlare un momento? è la nostra chance ci porterà direttamente a porta fisco e ci metterà lui stesso su quella nave meglio di così? se scoprissero chi sei veramente non avremo mai più un'occasione del genere d'accordo allora correremo questo rischio sta tranquillo c'è Rufus con te ma promettimi che ti comporterai in modo degno e solenne proprio come Cletus promesso gambe in spalla buon uomo ci conduca dunque al vostro nobile destriero il mio sangue di cavalleresche origini sta già ribollendo si dopo di voi un uomo la sua interpretazione non è poi così male ok il capitolo 2 è finito sta il cantante sento il concetto il capitolo 3 che prima della fine è la sua avventura prima di settarsi in bocca al leon l'eroe deve rendersi l'anima pura è regola chiara che cappello 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 si appresta a rischiare se gli amici dovevano restare indietro la colpa è la loro perchè la coraggioso non ama frenare la parte circolare cos'è? pneumatico? interessante ok adesso non appena posso riprendere in mano il gioco cioè usare il mouse vi saluto e ci vedremo quindi chi ha bisogno di quegli idioti? oh guardatemi sono doc sono un sapientone e non ho le gambe oh guardatemi sono bozzo ho i capelli di unicorno elisiano e so riprodurre le scorreggie con il violino avanti non essere arrabbiato trovo molto triste che abbiate il ligato ma fidati prima o poi cambieranno idea fosse solo quando si risveglieranno dopodomani senza un pianeta sotto i piedi eh staremo a vedere forse non sarebbe così male se l'organon mandasse davvero questo ammasso di immondizia all'altro mondo Rufus non volevo dirlo davvero ma dimmi com'è davvero Elysium? presto lo vedrai con i tuoi occhi è vero che ci sono delle fontane che sparano acqua potabile nell'aria? Rufus non riesco a concentrarmi sì a proposito cosa stai facendo? sto scrivendo un rapporto per il consiglio degli anziani che noia che barba che barba che barba il letto come in chi ha dormito nel mio letto? il letto sì ci conviene riposare per arrivare in piena forma a Elysium eh 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 tu e io voglio dire noi noi tutti e due condivideremo lo stesso letto? per dormire Rufus chiaro? solo per dormire sì certo naturalmente è chiaro perché cos'altro se no dormire ok allora adesso devo salvare in realtà ho già fatto eccolo qua salva in realtà c'era già un salvataggio del 13 ottobre nello stesso punto quindi da 12 giorni non lo stavo più toccando e voi state vedendo questo in gennaio e quindi spero bene di poter continuare a registrare la serie in particolare capitolo 3 ci vedremo la prossima volta ciao a tutti ciao a tutti